URGE UNA DECISIONE, SIGNOR PRESIDENTE Queste ultime ore sono state le più lunghe e buie della mia vita Come si può decidere quando è in gioco la vita dei nostri simili? Un milione di civili contro 81 ostaggi e in mezzo a Frank Ammel Il fatto che abbiamo ignorato, abbandonato e marginato un valoroso soldato come Frank Ammel E che molti figli d'America abbiano pagato col sangue le nostre negligenze E' ugualmente vero ed è ugualmente tragico Siamo in guerra con il terrore Una guerra comporta inevitabilmente perdite E' la peggiore decisione che io abbia mai dovuto prendere Incursione aerea autorizzata Con la potenza di fuoco che investirà l'isola Finirà tutto in pochi secondi E' un tempo previsto all'arri E' un tempo previsto all'arri E' un tempo previsto all'arri